Tutto in coda per il tampone, con lunedì l'obbligo di pronotazione per effettuare il tampone antigenico non è più necessario e la gente impegnativa alla mano ad Arzignano si è messa in fila di buon'ora al punto tamponi messo a disposizione dell'USL dell'amministrazione comunale, ovvero la palestra della scuola da Vinci. L'effetto è stato quello che ci segnala con questa foto un nostro telespettatore, una lunga coda di persone in attesa e, come ci ha scritto nella didascalia della foto, c'era chi, mascherina abbassata per ingannare l'attesa, incurante dal covid, si fumava tranquillamente la sigaretta. Una situazione che ha allarmato il primo cittadino all'ESB Villacqua, anche lei in coda per effettuare il tampone. La sindaca ha chiamato la polizia municipale che è arrivata in supporto. Anche in fiera a Vicenza, maxi punto tamponi dell'USLotto non sono mancati in mattinata le code e per tutto il giorno è stato un via vai di persone. Due le vie individuate, una per chi comunque si era pranotato per le scuole e un'altra per chi arrivava senza la pranotazione. I volontari della protezione civile hanno, diciamo così, diretto il traffico, riuscendo a far defluire le code. 3.000 i tamponi complessivi effettuati tra fiera di Vicenza e palestra d'Arzignano nella sola giornata di lunedì. L'USLotto confida comunque che i flussi si normalizzino nel comune dell'Ovest Vicentino, grazie ad una ripartizione delle attività su tutta la giornata. Ai medici di famiglia l'invito a suggerire ai propri assistiti gli orari più idoni per ridurre le attese.